Dottor Strano, invece a lei, prima mi diceva stiamo partendo adesso con la strategia insomma implementazione di cloud computing, ecco ci spiega un po' partire adesso per arrivare dove, qual è la vostra idea? Allora, nella regione Veneto, per chi non lo sa lo dico, ma l'anno scorso è uscita una legge regionale che va a variare l'architettura della sanità, in sostanza vengono accorpate delle ULS, si va quasi sul provinciale, ci sono due eccezioni ma negli altri casi si va sul provinciale, quindi si accorpano più ULS e si mette in campo l'azienda zero, l'azienda zero è quella che dovrà occupare tra l'altro dell'informatica, quindi l'informatica sarà coordinata da questa azienda zero e all'interno di queste verranno prese le decisioni strategiche future di quali saranno gli assetti. Quindi siamo in un momento di transizione, in questo momento di transizione allora cosa stiamo cercando di fare? Oltre che, chiaramente, dover fare i trasti dei domini, dover andare a vedere, ad unificare le reti, cose indispensabili all'interno delle proprie aziende, ma che comportano lavori non indifferente per poterlo fare e questo è sicuramente una cosa che bisogna fare abbastanza rapidamente perché qualunque siano le future decisioni strategiche su cosa sarà fatto, è necessario che ci sia una rete ben funzionante e che sia vista con le nuove aziende, con la capacità totale dell'azienda. ci troviamo ad avere dei data center che, nel nostro caso, tre ex aziende, di cui una ne aveva due, le altre una ciascuno, quindi ci troviamo con quattro data center, di cui uno già abbiamo deciso di abbandonare e dopo vedremo nel futuro come accorpare il rimanente e nello stesso tempo, vado adesso all'argomento del cloud, ci siamo trovati nell'occasione che dovevamo rinnovare tutti gli apparati che riguardano il 118, quindi uno servizio che era già previsto provinciale, così abbiamo esposto alla regione due progetti, uno che utilizzava il cloud, uno tradizionale, i costi erano equivalenti, la regione ci ha dato indicazione come noi preferivamo, cioè di andare tramite la strada del cloud. Di questo siamo partiti l'inizio di questo mese, perché poi ci sono i tempi tecnici per fare queste cose, c'è stata l'addizione chiaramente alla SPC2 con delle modifiche che sono state affrontate su nostra richiesta da parte di TIM, da una parte delle COM e dall'altra parte di CONSIP, perché per esempio non era prevista l'assistenza nelle 24 ore, ma c'erano dei buchi notturni di sabato e di domenica che invece per un 118, ma anche nell'assistenza in generale non sono accettabili, è stata accettata questa modifica e quindi si è partiti con un contratto che prevede tra l'altro l'assistenza nelle 24 ore. Cosa significa questo e cos'è il 118? Cos'è il 118 penso lo sappiamo tutti, sostanzialmente è quel servizio che va a gestire l'emergenza per tutta la provincia, significa che c'è una centrale unica che nel nostro caso si trova nella caserma dei vigili del fuoco perché in modo da avere un unico centrale per l'emergenza assieme ad altri e che però ha dei punti di riferimento nel territorio che sono tutti pronto soccorsi da una parte e dall'altra parte sono anche gli apparati mobili che vanno in giro con le autoambulanze e quindi possibilità anche su questo di poter transitare dati che nel passato andavano nella centrale unica e che adesso invece andranno all'interno del cloud e abbiamo scelto l'SPC2 proprio perché ce lo dava Consip e abbiamo ritenuto di iniziare questa strada proprio per cercare di rendere più flessibile quello che è il futuro, cioè anche in questo campo se dovessero essere delle variazioni essendo in cloud è più facile dopo un domani poterle verificare e poterle anche utilizzare, quindi maggiore flessibilità da una parte, maggiore sicurezza perché come è stato spiegato prima nel cloud ci sono due sistemi tra loro distanze che ci consentono non solo di avventare il backup ma anche business continuity e quindi ci danno una maggiore sicurezza di quella che c'era precedentemente e in queste state le motivazioni delle scelte che ci hanno portato a dire andiamo in questa strada. I risultati io spero che siano buoni, le dobbiamo vedere un pochino più avanti ma spero proprio che siano buoni, direi ottimi dovranno essere, non buoni, tanto ne è che anche con un altro servizio aggiuntivo andrò via qui prima perché dobbiamo proprio prendere delle decisioni per fare altri servizi aggiuntivi che è la guardia medica e quindi anche su quella andremo ad attestarla in cloud. Quale sarà invece il futuro? Quale sarà il futuro? Qui dipenderà delle scelte che farà l'azienda zero da noi. Perché? Perché stanno già predisponendo una serie di gare per andare a cambiare all'interno delle aziende, per unificare i sistemi diciamo che sono il CUP, che sono la DT, se sono le cartelle cliniche e quant'altro e dovrà decidere quindi l'azienda zero se riterrà di inserirle all'interno delle aziende o se invece magari come auspicabile all'interno di un cloud che potrebbe essere più flessibile. Questo è quello che posso dire in questo momento e mi auguro che le cose vanno secondo le valutazioni che abbiamo notato.